Cari naviganti bentornati, come probabilmente sapete il 28 marzo scorso è scomparso Ryuji Sakamoto un grandissimo compositore, un grandissimo musicista e quindi dedichiamo la puntata di oggi e anche la prossima a lui Allora ho chiamato questa puntata Merry Christmas Mr. Sakamoto con riferimento ovviamente al suo brano forse più famoso che era Merry Christmas Mr. Lawrence, brano per il quale veramente ha avuto una notorietà internazionale brano che ha più di 40 anni dall'uscita, 40 anni giusti quest'anno in effetti, è ancora famosissimo ed è ancora diffusissimo quindi mi è sembrato il modo giusto di omaggiare un grandissimo compositore, incredibilmente fantasioso, incredibilmente eclettico ed è quello che è stato veramente un ponte culturale fra il mondo occidentale e quello orientale quello insomma che ha battuto un sacco di barriere ed è riuscito a farsi conoscere e a diffondere la musica di tipi così diversi, di così tanti stili diversi che è difficile inquadrare Sakamoto nell'ambito di un solo genere basti dire che ha fatto 15 colonne sonore, quindi neanche tantissime, 15 colonne sonore, quindi neanche tantissime e quindi insomma non possiamo neanche solo definirlo come compositore di colonne sonore ma quelle che ha fatto sono veramente state basilari e fondamentali nel prosieguo della storia della musica del film però poi ha affrontato così tanti generi, pensate che in 45 anni di carriera ha fatto uscire circa 120 album in realtà non c'è neanche una sigla precisa, alcune sono collaborazioni, alcune sono fatte con altri nomi insomma è perfino difficile avere un numero preciso però se considerate una media di 3-4 dischi all'anno capite insomma che stiamo parlando veramente di un caso veramente unico e particolare nella storia della musica da film e della musica in generale Sakamoto nasce e studia a Tokyo, nasce nel 1952 e comunque a Tokyo passerà tutta la parte della sua fase formativa già le primissime anni 70 comincia a utilizzare i sintetizzatori, non è stato certo il primo ma insomma i giapponesi insieme ai tedeschi naturalmente insomma sono stati i primi non tanto a usare i sintetizzatori che si usavano già negli anni 60, qualcuno addirittura negli anni 50 li usava però insomma sono stati tra i primi a utilizzarli in fase, in chiave pop quel periodo che è stato comunque un periodo veramente formativo e veramente di magmatico fermento per la musica pop ma non solo per lo sviluppo, per la musica elettronica, per i sintetizzatori, per i campionatori, per le drum machine e per tutte quelle strumentazioni che oggi sono, insomma come dire, pane quotidiano anzi per certi versi ormai più che veri i propri sintetizzatori noi usiamo degli emulatori cioè dei software che emulano quello che facevano questi sintetizzatori più di 50 anni fa impossibile parlare di questa fase cultural musicale che si è sviluppata negli anni 70 senza nominare il gruppo in cui Sakamoto entra a far parte alla fine anni 70 cioè gli Yellow Magic Orchestra vediamo in questa foto, tra l'altro ha fatto la distanza di 30 anni l'uno dall'altro una nel 1978 e una nel 2008 per una riunione che avevano fatto l'importanza di questo gruppo nella musica pop e nello sviluppo dei sintetizzatori è enorme enorme perché hanno avuto un successo molto grande non solo in Giappone, loro patria ma anche in tutto il mondo, anche in Gran Bretagna che poi insomma avere successo in Gran Bretagna voleva dire poi averlo in Europa e averlo anche di riflesso negli Stati Uniti il ruolo dei Yellow Magic Orchestra appunto nella musica pop è stato veramente enorme l'influenza che hanno avuto su una quantità di stili musicali che sono sviluppati negli anni successivi cioè sul synth pop, sull'ambient house, sull'electropop e perfino sull'hip hop è stato veramente enorme sono stati praticamente già dal 1978 per qualche verso il 77 dei veri precursori di quello che sarebbe stato tutta la new wave degli anni 80 sono stati un gruppo che hanno influenzato anche Depeche Mode di Duran Duran, insomma quindi enorme l'influsso che hanno avuto nella musica orientale e anche occidentale, adesso vedremo con quali specifiche sono stati tra i primi a utilizzare i loop quantomeno su digitale prima lo si faceva ma ovviamente in maniera analogica sono stati i primi a utilizzare le drum machine insomma quindi ripeto tutta una serie di standard che poi oggi per noi sono appunto degli standard dei dati tecnici assodati e acquisiti per loro erano veramente i primi tempi e sono stati dei precursori senza voler assolutamente sminuire quello che è stato il ruolo di Sakamoto all'interno del gruppo gli altri componenti erano ferrati quanto lui e forse perfino più di lui anzi sono loro se vogliamo che danno veramente che portano dal punto di vista tecnico dei sintetizzatori il suono della band si inventano il suono della band quello che fa Sakamoto oltremente per dare il proprio contributo musicale è portare tra virgolette i Kraftwerk cioè fa conoscere il gruppo i Kraftwerk è forse il più importante gruppo di musica elettronica della storia insomma che per decenni ha avuto un'influenza enorme su tutte le band che hanno fatto musica elettronica con una differenza però che mentre i Kraftwerk per loro stessa definizione e ammissione insomma facevano una musica che vuole essere distopica e perfino angosciante per certi versi il ruolo del come dire il mood che vuole trasmettere la Yellow Magic Orchestra è al contrario di gioia di felicità e di grande positività ecco tenete presente che la generazione degli anni 70 Amtac appunto che comincia a utilizzare i sintetizzatori è già la seconda generazione che li usa quindi non sono degli innovatori nell'uso dei sintetizzatori ma sono degli innovatori nel fatto che li usano nella musica pop ecco in questo senso assolutamente sì uno dei gruppi del uno dei gruppi del della Yellow Magic Orchestra era anche assistente di Is Auto Mita che abbiamo già incontrato se vi ricordate quando abbiamo parlato di Apocalypse Now a proposito vi lascio il link in descrizione qui sotto se siete su YouTube e qua sopra se siete su Facebook è importante dire che soprattutto all'inizio della carriera non vogliono scimmiottare lo stile occidentale all'esatto opposto tutto il gruppo e Sakamoto in particolare anzi critica l'atteggiamento della maggior parte dei gruppi dei gruppi giapponesi degli anni 70 che fondamentalmente appunto cerchiamo di imitare quello che si faceva in Inghilterra o quello che si faceva in America senza dare un contributo come dire estetico particolarmente rilevante Sakamoto e tutta la Yellow Magic Orchestra o gli Yellow Magic Orchestra le dicete voi come preferite chiamarli decidono invece di portare all'interno della loro musica pop elettronica tutto quello che volete la parte tradizionale giapponese ed è una piccola evoluzione in Giappone probabilmente ai ragazzi il pezzo che ascoltiamo adesso non dirà niente ma per chi ha la mia età è un pezzo che ricorda assolutamente tantissime cose ora ve lo faccio ascoltare e poi vi dico dove l'avete sentito ne possiamo ascoltare solo ve lo ricordate? ecco fermiamoci altrimenti poi ci bloccano per questioni per questioni di copyright questo brano che si chiama Ride In è conosciuto da chi ha la mia età non fosse altro perché oltre a un grande successo commerciale era stato utilizzato come sigla di uno di quei quiz di Mike Buongiorno che andavano veramente per la maggiore insomma quindi aveva avuto un'ulteriore diffusione a causa del fatto che era appunto stato utilizzato come sigla di questo programma nel 1978 stesso anno in cui esce il brano che avete appena ascoltato Sakamoto fu uscire anche uno dei suoi album da solista che si chiamava The Thousand Knives in cui praticamente si sviluppa quello che era il suo programma musicale dell'epoca cioè utilizzare la musica tradizionale giapponese però attualizzata rimodernizzata e trasfigurata per certi versi attraverso l'uso dei sintetizzatori quindi della musica elettronica nel 1983 c'è come dire una svolta un po' perché Sakamoto inizia a lavorare alla sua prima colonna sonora che sarà Merry Christmas Mr. Lawrence che poi nella versione italiana sarà Furio con David Bowie nel ruolo di attore e anche Sakamoto stesso oltre a comporre la colonna sonora reciterà nel film perché è importante innanzitutto appunto perché inizia a lavorare nel mondo del colonna sonore e poi perché con questo brano che ascolteremo tra poco cioè appunto Merry Christmas Mr. Lawrence Sakamoto entra veramente nel gota dei compositori mondiali ora lo ascoltiamo un po' C'è qualcuno che non conosce questa musica, non credo, anche perché poi cantata da David Silvina è reinventata una canzone che era stata veramente una hit mondiale e ancora oggi viene utilizzata in pubblicità, utilizzata in trailer, utilizzata in documentari. Come avete sentito c'è un carattere orientale, giapponese in particolare, molto forte e questo non è tanto il primo esperimento di diffusione di musica tradizionale giapponese con un qualcosa di più moderno e di occidentale, anzi come ho detto già dalla fine degli anni 70 Sakamoto lo faceva, però è il primo esempio di un successo mondiale in cui viene applicato questo principio. Successo mondiale, se vogliamo, perfino superato da quello che verrà solo quattro anni dopo, nel 1987, le musiche per l'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, che addirittura vinceranno l'Oscar. Qui vediamo una foto, per dire la verità, Sakamoto l'ha scritta insieme a David Byrne e a Kong Su, comunque sì, insomma, al netto della triplice paternità della colonna sonora, vince l'Oscar e veramente il suo nome decolla a livello mondiale. Bene, lasciamo il buon Sakamoto a godersi il meritato successo mondiale che questo film e la vittoria di questo Oscar gli porta e ci vediamo la prossima volta, continueremo la storia di Ruichi Sakamoto e di tutte le sue innovazioni musicali nella musica da film e non solo. Alla prossima, non mancate!